Picchi di 35 gradi nella giornata di oggi, ma non facciamoci l'abitudine. Già da domani l'estate inizia ad avere i primi cedimenti stagionali. L'ondata di caldo africano di queste ore interessa soprattutto l'oristanese e le piane interne di Goceano e Ottana, dove si raggiungeranno le temperature più elevate. Fa eccezione in Sassarese, dove la ventilazione diurna resterà settentrionale per prevalenza del flusso in uscita dalle bocche di Bonifacio. Già da domani potrebbero registrarsi le prime piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane sui rilievi dell'entroterra, a carattere isolato, ma l'instabilità sarà diffusa già da giovedì 22, con possibilità di piogge nel Sassarese, una condizione che si protrarrà anche per la giornata di venerdì con maggiore instabilità nel settore occidentale dell'isola. Insomma una settimana dal tempo variabile in cui l'estate darà un breve assaggio di fine stagione.